Le forze armate statunitensi hanno una carenza di nuove reclute, proprio mentre la Russia dichiara di essere in guerra con l'Occidente e il regime comunista cinese minaccia di prendersi Taiwan. L'America probabilmente dovrà rispondere, e potrebbe essere un vero problema. Nell'ultimo anno, su un fabbisogno di 476.000 nuove reclute, l'esercito ne ha potuto arruolare solo il 75%. Dal punto di vista tecnico non è un grosso problema. Ora si prevede che le nuove reclute saranno tra i 445.000 e i 452.000 entro settembre. Il problema è se questa tendenza continua. I Marines non sembrano avere problemi, ma loro sono un'altra categoria. Io arrivo da una famiglia di Marines. Anche la Marina e l'aeronautica non sembrano avere grossi problemi, ma la Marina ha innalzato l'età massima di arruolamento da 39 a 41 anni. L'aeronautica ha avuto una spinta al reclutamento grazie a Top Gun Maverick. Ma ciò nonostante, entrambe le armi si aspettano un notevole calo di arruolamenti quest'anno. Che fare? Fare dei film patriottici sulla storia americana? O ricordare alle giovani generazioni che dovrebbero combattere per difendere la Costituzione degli Stati Uniti e quello che rappresenta? No. Il Pentagono ha un'altra idea. Il Pentagono sta rivedendo e allentando i requisiti per l'arruolamento. E per la nuova campagna di reclutamento sta utilizzando TikTok, cercando di mostrare una nuova immagine delle forze armate americane. E la Marina degli Stati Uniti ora sta abbracciando ciò che molti marines statunitensi sospettavano da sempre, promuovendo una drag queen non binaria, cioè una sorta di ermafrodita, come ambasciatrice digitale. Joshua Kelly, il cui nome d'arte è Harpy Daniels, che ha postato brevi video su TikTok e altri siti di social media per promuovere il fascino della Marina alle generazioni più giovani. Si è persino esibito da drag sulla portaerei Ronald Reagan nel 2017 e nel 2018. In un recente post su TikTok ha scritto, nella Marina c'è eterogeneità di persone, comprese trans e omosessuali non binari. Nessun odiatore può fermarci. Guardate! Funzionerà! Si prevede che quest'anno alla Marina mancheranno circa 8000 nuove reclute. Le reclute sono spesso persone che hanno appena terminato le scuole superiori, che probabilmente si guardano intorno indecise. Sembra che la Marina stia cercando di attirare i giovani LGBTQ spacciandosi come nuovo cosiddetto luogo sicuro. Qual è il problema? Il problema è che la vita militare non è mai stato un rifugio sicuro. E non può esserlo. Le forze armate, in quanto tali, sono in costante pericolo. Si parla di guerra. E come diceva il generale Patton, qui si tratta di morire per il proprio paese, oppure di uccidere un altro che stava difendendo il proprio paese. Molti americani la vedono così. La natura intrinsecamente bellica delle forze armate statunitensi viene sacrificata per gli interessi politici e l'ideologia woke. E gli avversari americani ne stanno prendendo atto. Mentre le forze armate russe, per esempio, hanno lanciato una campagna pubblicitaria video per attirare un maggior numero di uomini veri. Forse in aperta contrapposizione alla direzione presa dalle forze armate statunitensi.